Il presidente della regione toscana Enrico Rossi insieme agli assessori Bugli, Grieco, Remaschi e Cioffo ha tenuto un briefing per fare il punto sulle ultime attività della giunta. È stata approvata la proposta di legge sulla nuova disciplina per gli agricamping, cioè agriturismi, che scelgono di attrezzare aree anche per i camper. Gli imprenditori avranno la possibilità di allestire caravan, camper o realizzare il camping, cioè tende attrezzate con mobili ed elettrodomestici. Oggi in Toscana ci sono circa 4.500 agriturismi, mentre gli agricampeggi e i censiti sono 129. Pensiamo di aver fatto una buona legge che offre un'opportunità in più agli agricoltori di integrazione del proprio reddito, un'opportunità in più a chi fa turismo, chi fa turismo interessato a un rapporto diretto con la natura, ma allo stesso tempo vuole anche vivere entro ambienti, ripararsi in strutture adeguate. Nello stesso tempo non abbiamo nulla contro i campeggi e se ci sono esigenze di individuare altri terreni su cui fare campeggi noi siamo ben disposti a discutere con i comuni. La legge sugli agricamping andrà in consiglio la prossima settimana. Altro tema trattato è stata l'artenanza scuola lavoro con l'assessore Cristina Grieco che ha sottolineato l'importanza di favorire l'inclusione. La novità dall'anno scorso è che ospitiamo anche ragazzi con disabilità, del resto noi sull'alternanza siamo sempre stati convinti che se ben fatta, quindi noi finanziamo percorsi di qualità, se ben fatta dicevo rappresenta davvero per i nostri giovani un'occasione di avvicinamento e di conoscenza del mercato del lavoro. L'assessore Cioffo ha parlato dei cammini toscani e dei finanziamenti in arrivo, in totale oltre 6 milioni di euro. La regione ha promosso un bando da 280 mila euro destinato ai comuni che stanno valorizzando l'offerta turistica relativa al mondo etrusco. Cioffo ha incontrato a Roma il ministro Centinaio e ha reso noto che più di 2 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione e alla messa in sicurezza delle parti toscane della via lauretana e dei cammini di Francesco. Per quanto riguarda la francigena i milioni sono 4, un itinerario sempre più conosciuto. Sappiamo che i numeri legati alla francigena stanno diventando assolutamente rilevanti e noi dobbiamo, abbiamo sollecitato il ministro perché questo passaggio si velocizzasse e finalmente siamo arrivati all'impegno, ieri è stato definito in termini temporali e anche nelle quantificazioni destinate alle singole regioni.